Ciao guerriere spartane, io sono Giulia e ho 33 anni e qui in questo piccolo salotto è incominciata la mia trasformazione all'inizio con poco, qualche bottiglia, qualche cut di mio marito, il manico della scopa, il tappetino lo avevo insomma sono partita pianino diciamo però ne venivo da una storia di movimento diciamo continuo nel senso che ho giocato ho sempre fatto sport e ho giocato a livello agonistico a basket fino quasi alla laurea poi ho ripreso a livello direttantistico e comunque ho sempre cercato di muovermi però dai 19-20 anni ho smesso di bruciare come una stufa come evidentemente ho smesso di crescere del tutto e ho fatto un po' la fisarmonica, ho iniziato la pillola e quindi ho accumulato un po' di ritenzione idrica e questa fisarmonica è stata data da tentativi di diete eccetera poi stavo in un periodo abbastanza buono, stavo fatto una giornata di sci fantastica la più bella e la più brutta della mia vita insieme perché praticamente alla fine della giornata mi sono rotta il crociato, il menisco, le trabecole e tutto quello che si poteva rompere e dopo l'operazione e dopo la riabilitazione finalmente potevo ripartire c'è stato il lockdown e quindi lì l'espansione e sono incappata nel corso per caso su facebook e l'ho preso così subito perché avevo bisogno di darmi una scrollata avevo bisogno di togliermi del peso, dei pensieri di riacquistare autostima, di rivedermi nei miei vestiti di rivedermi come ero quando ero in forma e insomma ho provato e ho fatto prima cinque settimane da principiante poi ho visto che insomma per fortuna c'era una memoria nel mio corpo e quindi sono passata al programma avanzato e devo fare oggi l'ottava, incominciare oggi fra poco l'ottava settimana del female fitness infatti ho tolto la tovaglia per poter fare le trazioni australiane mi sono adattata con un po' di lentezza alla dieta 3A però ho eliminato i latticini, ho tagliato i carbo e mangio solo quelli consentiti faccio una bella colazione proteica mangio tanta frutta e verdura bevo le lisir tutte le mattine insomma cerco di seguire e adattare ai miei gusti e con un po' di fantasia sono riuscita a cambiare un po' la mia alimentazione a cambiare molto la mia alimentazione e fare porzioni corrette poi gli allenamenti essendo quasi come in palestra perché hai una persona che ti fa vedere esattamente Alessandra è bravissima, spiega gli esercizi, si fa vedere di lato o davanti come devono essere posizionati gli attrezzi che posizioni bisogna assumere ricorda sempre scaporadotte, addominali contratte, i gluti contratte io ormai ho questo mantra nella vita e quindi ho incominciato a passare dalle bottiglie a comprarmi qualche cat a comprarmi un manubrio come si deve cioè un bilanciere che diventa anche due manubri i dischi, le cavigliere che prima avevo ne ho comprate di altre per poter variare i pesi a seconda degli esercizi e tutto lo staff ti aiuta perché ti spiegano le lezioni Filippo ti spiega anche altro sull'alimentazione sull'integrazione che è fondamentale Alessandra nei suoi video è pazientissima e il gruppo ti trascina ti sostiene e alla fine ti ritrovi che quei tre giorni alla settimana li trovi per fare gli esercizi e appena vedi risultati ti piaci di più piaci di più agli altri ti viene si instaura un circolo virtuoso per cui più ne fai più ne faresti quindi io ho perso non molto peso ma l'ho trasformato in cioè ho perso poco peso ma ho trasformato molto molta massa grassa in massa magra quindi sono molto più soda e già si vedono i miglioramenti ho rimesso delle cose in cui non entravo più e ho comprato un sacco di cose nuove perché mi stava tutto largo e questo ovviamente fa crescere l'autostima c'è ancora da lavorare ma sono sicura che continuando su questa strada e con questo staff meraviglioso alle spalle riuscirò a raggiungere il mio obiettivo in bocca al lupo Spartane grazie a tutti